Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi vi racconto un po' quello che ho letto quest'estate Allora, non volevo fare il wrap up, però voi sapete che io non ho il dono della sintesi Quindi, questa probabilmente sarà la prima parte di un video un po' più lungo, quindi che poi avrà il suo seguito dove vi parlo delle mie letture estive, di quello che ho letto dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti con il wrap up che penso fosse giugno, quindi vi racconto tutto quello che ho letto tra luglio e fine agosto, ovvero questi giorni insomma, perché devo dire che nonostante io fossi abbastanza sicura di non aver letto praticamente una mazza ho letto un sacco e tanti titoli belli e tanti titoli dei quali secondo me bisogna discutere insomma, ci sono titoli che mi sono piaciuti moltissimo, titoli che invece mi hanno delusa parecchio e titoli che forse meritano una discussione in merito, quindi direi di iniziare subito a parlarne insieme Il primo titolo di cui vi parlo è un libro che io attendevo davvero tanto stiamo parlando di Leah on the half bit, ovvero il nuovo libro che fa parte di tutta la galassia di Simon vs. The Homo Sapiens Agenda che adesso è uscito il film ed è diventato Tuo Simon, o Love Simon in inglese, di Becky Albertalli a me il primo volume, cioè Simon, era piaciuto molto, nel senso pur trovandoci dei difetti li trovavano un messaggio molto positivo, delle relazioni o comunque delle dinamiche interne alle relazioni non solo quelle amorose ma anche quelle tra amici, familiari eccetera, molto realistiche e molto positive e forse, è complesso come discorso, è facile entrare in empatia con il protagonista perché se ne vive un po' l'angoscia, no? e presentandosi questo suo universo attorno, insomma è molto interessante da scoprire tutto il mondo attorno a Simon che è molto vicino a quello che potrebbe vivere qualsiasi ragazzo o qualsiasi persona attorno a noi e poi ora è arrivata Lia che è la migliore amica di Simon e ora seguiamo la sua storia la storia di Lia è molto diversa da quello di Simon, a partire proprio dalla sua famiglia mentre Simon ha un po' la famiglia idilliaca, però che discute, che parla, insomma una famiglia un po' ideale da un lato dall'altro però con dinamiche assolutamente credibili Lia invece ha una madre single che è più impegnata a trovare un nuovo marito che è sempre dietro a lavorare, che è troppo occupata per prendersi cura di lei e Lia un po' questo aspetto lo vive davvero male all'interno del libro e forse è la parte migliore del libro Lia fa parte della banda della scuola, è una persona molto attiva però mentre esteriormente viene percepita come la ragazza grintosa, la ragazza molto aperta e che non ha mai paura di dire quello che pensa in realtà nasconde tantissime cose su di sé tra cui il suo orientamento sessuale infatti Lia è bisessuale e non ha mai avuto il coraggio di dirlo apertamente ai suoi amici dopo ci arriviamo e per un incrocio incredibile di questioni parte per un campo dove conoscerà quella che forse diventerà la sua nuova fiamma allora brevemente la trama come sempre io odio raccontare le trame c'è Goodreads apposta ma quello di cui voglio parlare è il perché io ho dato tre stelline a Lia ovvero per me è stata una grossa delusione Lia on the offbeat a parte che l'ho trovata proprio on the offbeat nel senso che mi sembrava molto distante dalla Lia di Simon nel senso che dandogli questo tipo di spazio e questo tipo di evoluzione mi è sembrato un personaggio davvero molto arrogante davvero molto egoista per alcuni versi Lia è un personaggio molto negativo è molto rude è molto maleducata dice davvero tantissime bugie ma quel troppo che porta il lettore a considerarla anche poco autentica nel suo rapporto con gli amici soprattutto con Simon è abbastanza insopportabile che mi è sembrata una sensazione stranissima perché a me invece era piaciuta nella sua versione precedente ora l'ho trovata proprio fuori fase e quello che è l'impressione generale che ho avuto di questo secondo volume è che fosse una fanfiction con tutto il bene per le fanfiction quelle scritte bene e ne sto leggendo una bellissima ora grazie a Miss Nerily però mi è sembrato proprio come se avessero preso un personaggio svuotato di quelle che erano le sue caratteristiche originali riprogrammato per dare un senso a una storia e mettendo in qua e in là delle scene molto fanservice molto adatte a essere apprezzate che sono state la parte migliore del libro credetemi e poi la dinamica del so di essere gay so di essere bisessuale eccetera ma non ne parlo con i miei amici non ne parlo con chi mi sta vicino è esattamente quello che aveva vissuto Simon quindi l'ho trovato molto poco autentico perché tu sei la sua migliore amica hai vissuto già quella dinamica e quindi è anche una ripetizione quindi l'ho trovato anche poco originale per questo detto ciò secondo me l'errore più grande in tutta la storia è che innanzitutto è estremamente prevedibile innanzitutto si distacca troppo da tutte le informazioni che noi avevamo nel precedente libro ad esempio secondo me non era così chiaro che lei fosse bisessuale e il personaggio di Lea vivendo la sua identità sessuale è allo stesso tempo confusa ma confonde anche il lettore perché la lettura che si dà anche del suo orientamento sessuale è molto diciamo molto sul filo del rasoio secondo me secondo me la bisessualità ha bisogno di un tipo di rappresentazione molto più accorto perché ci sono pochi esempi nella letteratura per ragazzi che lo fanno bene quella di Lea mi sembra un po' sempre vicina a quelli che secondo me sbagliano ovviamente che vedono la bisessualità come girare per il mondo e farsi piacere tutti che non è assolutamente quello che la bisessualità è però in questo caso Lea a un certo punto scopre di avere da sempre questa crush su questa persona ed è molto prevedibile tra le altre cose quindi insomma devo dire che questi sono gli elementi salienti che non mi hanno fatto apprezzare tanto il libro e che secondo me sono stati un po' che sono stati dei punti molto più bassi rispetto a quello che era stato Simon ovviamente i momenti più belli del libro sono quelli dove ci sono Simon e Blue un po' ripeto sono quelli fan service però sono dolci sono le uniche persone che la fanno ragionare e questa cosa mi è piaciuta devo dire che tra le varie cose ad esempio per farvi capire quanto Lea sia diventato un personaggio detestabile e che lo dico io che parlo continuamente di questo tema a un certo punto Lea fa notare a una sua compagna di classe che ha fatto un commento razzista a una sua amica e è giusto farlo notare bisogna dire a qualcuno soprattutto se è vicino a voi se sta commettendo un errore ma Lea lo fa urlando impazzendo facendo una scena nevrotica che va avanti per pagine e pagine ripeto per me è giusto far notare alle persone quando fanno commenti razzisti perché è ora di smettere di stare zitti e non farle passare ma Lea ha una reazione esagerata passa dall'avere ragione all'essere nel super torto perché per difendere la sua posizione contro il commento razzista sminuisce l'altra persona e la fa sentire completamente una stupida la fa sentire inadeguata a qualsiasi cosa quando la ragazza chiede subito scusa tra l'altro cioè rispetto Simon la personalità di Lea è molto meno apprezzabile e molto meno digeribile secondo me da parte del lettore quindi insomma non ho apprezzato troppissimo questo secondo volume e proprio a proposito di razzismo e commenti del genere ho letto perché dovevo recensirlo per E del Vice Plus Pride di Ibi Zoboi che è la reimmaginazione in chiave moderna di Pride and Prejudice di Jane Austen e incredibilmente l'ho trovato adorabile questa cosa mi preoccupa tuttora perché in realtà è un libro che ha un sacco di difetti però ne esce benissimo fuori è estremamente carino immaginatevi Pride and Prejudice ma a Brooklyn tutta un'altra ambientazione siamo a Brooklyn e dobbiamo immaginarsi la famiglia Bennet come se fosse di origine afro-latina e quindi invece che essere Elizabeth Bennet la nostra protagonista si chiama Zuri Benitez e a un certo punto nel loro quartiere si trasferisce la famiglia Darcy che è di tutt'altra estrazione sociale anzi non c'entra nulla con la zona in cui vanno a vivere che è un quartiere mega popolare in questa casa che ristrutturano e diventa estremamente benestante e ovviamente attirano un po' però l'attenzione di tutte le ragazze della famiglia Bennet e attirano soprattutto le antipatie di Zuri che è la nostra protagonista e quindi noi seguiamo un po' come accade dentro il romanzo l'evoluzione dei loro rapporti e quindi la difficoltà nella comunicazione la difficoltà che si ha quando si parte da due posizioni molto distanti e si cerca di trovare dei punti in comune che è un po' la bellezza che secondo me rappresenta Pride and Prejudice anche perché è uno dei miei classici preferiti chiaramente allora devo dire che questo libro mi ha sorpreso perché mi immaginavo una trashata totale devo essere sincera ma visto che l'ho ricevuto un po' per caso e dovevo leggerlo non sapevo l'ho iniziato a leggere a metà luglio mentre ero in pieno esaurimento nervoso praticamente e mi ha divertito tantissimo perché la caratterizzazione dei personaggi è molto giusta non è irreale dobbiamo immaginarci questi due personaggi che rimangono fedeli un po' allo spirito originale dei personaggi a cui si ispirano ma che incarnano perfettamente senza però diventare delle macchiette teatrali quello che è la loro la loro esperienza quello che è il loro universo infatti Zuri è una ragazza del quartiere poveri è una ragazza che però è orgogliosa di fare parte di quell'ambiente è orgogliosa delle sue radici è orgogliosa della sua parte di città che è una porzione estremamente povera del quartiere di Brooklyn ed è la parte afrolattina dove si mescolano realtà culture diverse e dove la cosa bella è che tutti fanno casino e questa cosa mi è piaciuta molto perché proprio vivere il quartiere come se fosse una grande famiglia allargata mi è piaciuto perché lo vivono proprio con grande autenticità e poi si vedono arrivare questa famiglia che non ha nulla a che vedere con loro che non frequenterà nemmeno le stesse scuole e che partono da un punto di vista molto diverso rispetto a loro e che da un lato li spaventa perché all'arrivo di una famiglia così benestante vorrà dire anche gentrificazione vorrà dire anche la salita di tutti i prezzi quindi ci sono anche delle preoccupazioni sociali dentro il libro cosa che mi ha spiazzata e sono rimasta piacevolmente colpita comunque quello di cui vi sto parlando si chiama Pride è un libro che esce fra pochi giorni e secondo me è un romance con delle tematiche anche un pelo più significative che si legge in un soffio proprio si riesce a leggere con estrema facilità è scorrevolissimo lo stile sicuramente non è perfetto ma è molto adatto a quello che racconta conosce bene quello di cui parla e questa è stata una delle sorprese di quest'estate perché gli ho dato quattro stelline abbondanti anche potremmo dire perché ha tantissimi punti a favore il prossimo libro di cui vi parlo è Motor Girl di Terry Moore pubblicato da About Publishing allora questa è una graphic novel che io ho letto anche quella verso metà cioè l'ho finita in realtà l'avevo iniziata a giugno poi a un certo punto ho dovuto interromperla e dopo vi spiego perché e l'ho finita di leggere a luglio allora devo dire che sono rimasta spiazzata da questo titolo che non so se mi ispirasse davvero del tutto però mi ha conquistata pieno Motor Girl è la storia di Samantha che vive in mezzo al deserto in una sfascia carrozze in un rottamatore insomma non so neanche bene come definirlo insieme al suo amico immaginario il gorilla e un giorno vicino al loro demolitore cade un UFO i due si precipitano a cercare di salvarlo e cercano di fare amicizia con questa creaturina venuta dallo spazio scopriranno però che questo UFO non l'hanno visto solo loro ma ci sono società e individui un po' loschi che cercano di comprare proprio questo demolitore questo sfascia carrozze per poter installare un'arma anti UFO una grande centrale che terrà gli UFO lontani e Samantha rifiuta continuamente le loro proposte i loro soldi eccetera e inizia una guerra silenziosa contro di loro che pur essendo uomini importantissimi e cercando ovviamente di minare l'esistenza di Samantha scopriranno che insomma non hanno davanti una ragazza che si fa mettere i piedi in testa questa storia mi ha devo dire spiazzata perché raccontando la trama secondo me non si percepisce praticamente nulla del libro nel senso che la trama è solo funzionale dentro questo volume nel senso ci sono temi abbastanza importanti sicuramente legati alle big corporation contro le realtà più piccole eccetera ma quello che noi seguiamo è l'aspetto psicologico di Samantha Samantha ha un amico immaginario quindi Samantha ha perennemente le allucinazioni e ha una dissociazione praticamente evidente continua che le fa vedere questo che è un po' il suo unico amico che l'accompagna costantemente e la cosa potentissima di questo volume è che io ho finito tra le lacrime veramente perché mi sono sentita molto spiazzata all'inizio quando si scopre che il gorilla è un amico immaginario non è così cioè non è così una cosa da poco e pian piano seguiamo proprio l'evoluzione e anche gli alti e bassi della salute mentale di Samantha che secondo me hanno toccato dei picchi davvero altissimi e ero totalmente non preparata a questa graphic novel e a quello che ha simboleggiato e ho apprezzato tantissimo soprattutto i temi il modo in cui li tratta anche la delicatezza con cui lo fa senza appesantirli senza ammorbare il lettore senza provare sempre quella sorta di pietismo verso chi soffre di malattie mentali ma anzi facendolo sempre con grandissima eleganza e riuscendo a inserire in un contesto ovviamente molto poco credibile nel senso che stiamo parlando di big corporation che cerca di installare un'arma contro gli ufo però lo fa comunque in maniera credibile perché è una storia di chiunque abbia una piccola realtà chiunque cerchi di tutti i giorni affrontare quella che è la sua vita quotidiana nonostante le grandi difficoltà che ti mette davanti il convivere con una malattia mentale è un volume che mi ha davvero spezzato il cuore mi ha molto emozionato e c'è una rappresentazione davvero corretta giusta e avere a che fare con la sindrome prostraumatica che è quella di cui soffre Samantha rappresentata così per me è stato davvero un punto a favore gigantesco rispetto a questa storia è molto scorrevole non vi risulterà pesante io avevo dovuto interromperlo perché appena ho capito che si parlava di malattie mentali non volevo che fosse una lettura molto scorrevole ecco non volevo dargli troppa poca importanza in quel periodo era veramente molto incasinata l'ho ripresa a luglio l'ho letto davvero dunfiato tutto in una sera ed è stata una sera veramente spezza cuore ma ve lo consiglio davvero moltissimo gli ho dato 4 stelline e mezzo perché non sono una fan esagerata dello stile ma la fluidità narrativa e l'intensità della storia la concretezza della storia secondo me valgono tantissimo quindi ve lo consiglio molto 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 il prossimo titolo di cui vi parlo e del quale parlerò nel dettaglio prossimamente è perché non sono femminista di Jessica Crispin che tra l'altro mi ha regalato mio fratello sotto mia richiesta e dettatura e sono davvero molto contenta di averlo letto perché era uno di quei titoli che all'inizio ho detto appena uscito ho detto no non leggerò mai perché non ne avevo sentito parlare abbastanza male però ho deciso di leggerlo ho deciso di buttarmici e devo dire che ho fatto molto bene è un libro a cui ho dato 3 stelline ma che secondo me dà un sacco di argomenti di discussione davvero voglio parlarne approfonditamente in un feminist friday spero molto presto perché non sono femministe in realtà ci spiega tutti i motivi per cui jessica crispin crede fortemente nel mondo di movimento femminista ma in un certo modo ok quindi questa è un po' tutta la premessa secondo me gli argomenti sono altamente condivisibili i temi sono estremamente forti i temi da discutere sono davvero moltissimi il problema è che la crispin arriva al punto ma poi non approfondisce mai non ci dà mai la soluzione non ci fa mai degli esempi questa cosa io l'ho vissuta apprezzandola veramente molto poco perché mi è sembrato una sorta di jacuzze totale di tutto quello che non mi piace senza però essere mai propositiva che è un atteggiamento riguardo al femminismo soprattutto questo femminismo che è radicale e che io sostengo appoggio a prove eccetera però questo atteggiamento non propositivo a me non piace mai soprattutto quando si parla di femminismo è un po' il motivo per cui è nato anche il Feminist Friday quindi non è nato per fare dei jacuzzi ma è nato per analizzare e parlare di come possiamo evolvere come società insomma vabbè ve ne parlo ma nel dettaglio più avanti però è una lettura che consiglio tantissimo sappiatelo ok ora arriviamo invece alla parte difficile perché stiamo parlando di Right We Burn di Kirsten White Right We Burn è il titolo che io più attendevo quest'anno cioè tutti sapete quanto io sono fan della trilogia di And I Darken e quanto io abbia investito emotivamente psicologicamente su questa trilogia e ci sono tanti video in cui ve ne parlo tanti video in cui vi nomino il mio personaggio preferito degli ultimi anni ovvero Lada Dracul e i motivi per leggere questa saga sono davvero molteplici però qua stiamo parlando del volume conclusivo ovvero quello che mette tutti nei casini di solito perché scrivere il finale di una saga è un casino non possiamo vederlo in un altro modo scrivere il finale come dico spessissimo comporta un sacco di difficoltà perché il primo volume ti introduce tutto il mondo il secondo ti deve tenere attaccato alla saga o quelli centrali ti devono tenere attaccato alla saga il finale deve essere fulmini saette e fuochi d'artificio perché deve essere un finale dignitoso Bright We Burn se noi escludiamo gli ultimi quattro capitoli è un libro perfetto è un finale perfetto cioè io ora sono in quella fase dove sto fingendo di non aver letto i capitoli finali cioè come se non fossero esistiti e che quindi il mio finale sia stato quello un po' prima e mi sto immaginando il finale vero ok non so come dire è difficile parlare di questo prima perché non voglio entrare troppo nei dettagli praticamente qua noi seguiamo la fase finale della storia di Lada della storia di Radu che sono i due fratelli protagonisti seguiamo Lada che ancora insegue la sete di potere e che a questo punto deve provare le sue capacità di comandante di sovrana e Radu che è sempre un casino perché Radu se no non sarebbe Radu non posso parlare della trama se no è un mega spoiler di tutta la saga comunque venendo a noi questo secondo me è davvero un ottimo finale questa è una serie molto difficile cioè secondo me questa serie è stata complessa nel senso che è una serie che logora praticamente a livello emotivo il lettore perché sopravvissuti a Now We Rise io sinceramente non sapevo come arrivare a quest'anno poi ho letto Bright We Burn se avessi evitato di leggere gli ultimi quattro capitoli a quest'ora sarei messa peggio che l'anno scorso nel senso che Lada secondo me è un personaggio che poteva finire solo a fuoco e fiamme e perché se lo merita perché è un personaggio che viene detto nel secondo libro viene detto in Now We Rise Lada pur di conquistare tutto sarà la sua rovina ma tirerà giù tutto con un gran macello questa è ovviamente la parafrasi di come lo aveva scritto bene Kirsten White in questo libro noi abbiamo questo cioè Lada tira giù le montagne Lada fa quello che fa Lada solo Lada può fare e io voglio diventare sua amica cioè nel senso io vorrei averla vicina non come nemica e quindi è giusto che sia così perché Lada deve sbatterci il muso a Lada non interessa nulla non gliene frega niente se quello che ha in testa è impossibile è Lada è pazza lo può fare Radu invece secondo me in questo volume ancora più nel secondo e vi giuro è difficile pensare che Lada possa crescere ancora di più invece non l'ho mai apprezzato tanto come in questo libro perché è un personaggio che è molto diverso da Lada è un lato totalmente opposto della medaglia perché noi vediamo è un personaggio che non è fuoni fulmine saette anzi è molto contemplativo è molto sensibile è molto limitato nella sua espressione cosa che invece Lada non ha mai neanche considerato cioè l'idea di limitarsi non me la posso immaginare che pensa no ma magari non dovrei fare così cioè a lei non gliene frega niente Radu invece è proprio l'opposto sono il sole e la luna loro due sono due personaggi e due entità molto differenti ed è la cosa che io ho apprezzato tantissimo e però arriviamo agli ultimi quattro capitoli perché io posso fingere che non siano stati scritti ma ci sono e invece che avere il finale dove avrei pianto davvero ancora più di quello che ho pianto perché ho pianto in treno non potevo piander c'avevo le persone di fianco che non capivano il mio dolore cioè io mi sarei potuta distruggere e invece ho ottenuto negli ultimi quattro capitoli cosa che non c'entra nulla con tutto il resto quello che viene prima l'happy ending io cioè non ve lo voglio dire perché potrei impedirvi di leggere ma questa è una delle mie saghe preferite lo è comunque dopo anche aver letto gli ultimi quattro capitoli ripeto basta ignorarli psicologicamente è possibile ve lo giuro l'ho fatto io e lo sto facendo da luglio è un grande finale è una serie meravigliosa che davvero cresce cresce psicologicamente è un'indagine dei personaggi pazzesca per quanto folli sono fedelissimi a se stessi sono concreti sono in evoluzione e in questa evoluzione noi li seguiamo man mano in più c'è Mehmed che secondo me è un antagonista estremamente interessante io lo odio a morte proprio penso di non aver mai provato così tanti sentimenti negativi per un personaggio antagonista e questo secondo me è totalmente positivo perché Mehmed è proprio un vicido un maledetto ok e questa intensità io negli ultimi anni dopo Six of Crows l'ho ritrovata solo e unicamente con questa serie o con poche altre serie comunque non ha questi picchi e quindi è per questo che io vi dirò sempre leggete And I Darken leggete Io Sono Buio anche se in Italia so che forse non pubblicheranno i seguiti tradotti le solite robe all'italiana comunque volete farvi un favore leggetelo perché è una serie meravigliosa che è davvero vi spezzerà il cuore vi farà un sacco ridere vi disgusterà ma è davvero estremamente intensa quindi io vi invito assolutamente a leggerlo vi invito a ignorare gli ultimi quattro capitoli che non sono degni questa non doveva avere l'APN ce lo so come qua dovevano crollare vabbè comunque davvero a parte tutti gli scherzi questo libro mi ha veramente psicologicamente messo alla prova cioè allora psicologicamente mi ha messo tantissimo alla prova perché ero davvero preparata a qualcosa di molto inferiore come finale perché i finali sono difficili ve lo ripeto ed ero pronta a essere delusa invece Kirsten White è affidabilissima è bravissima e tra l'altro sta realizzando tutti i miei sogni adesso esce un romanzo su Elizabeth Frankenstein uscirà un volume che è ispirato a Buffy the Vampire Slayer e cioè sta realizzando tutti i miei sogni praticamente quindi non posso non volerle così bene scrive così bene che non si può e vi dico non sono ancora uscita del tutto dal trauma del è finito and die dark che è in casi la Conqueror saga è proprio psicologicamente mi distrugge questo concetto perché adesso ho veramente pochissime serie sulle quali fare affidamento l'ultimo libro di cui vi parlo oggi è Il Signorina di Natsume Tsoseki allora questo è un libro che io avevo visto sul canale di Matteo Fumagalli diverso tempo fa e anche in diversi video secondo me e che a lui era piaciuto molto e visto che sono andata a vedere la mostra sul Giappone sulle stampe giapponesi che c'era qui a Bologna nel bookshop alla fine c'era cosa che invece su Amazon è difficilissimo da recuperare credo anche sia fuori produzione ma non vorrei dirvi una sciocchezza la casa editrice è neri pozza come vedete è un libro molto breve quindi si legge anche abbastanza in fretta anche se è bello denso perché secondo me non è un titolo banale Il Signorino racconta la storia di quello che viene chiamato affettusamente Bo-chan in giapponese ovvero più o meno la traduzione Signorino quello che in Italia secondo me ha il corrispettivo del Giovin Signore in Parini e non vorrei dire una sciocchezza però insomma seguiamo la storia di questo ragazzo questo bambino anzi all'inizio quando lo incontriamo all'inizio del Novecento che proviene da una famiglia abbastanza benestante che però è totalmente ignorato sia dalla madre che dal padre che lo disprezzano non lo considerano più di tanto ma che invece viene trattato proprio come il signorino dalla tata dalla domestica di casa e che lo culla che lo cura che gli perdona anche qualsiasi cosa succede e noi seguiamo questo signorino questo ragazzo che proviene da una famiglia che sicuramente non gli ha dato alcun tipo di supporto emotivo e che sicuramente è anche un po' il risultato di questo trattamento ma che da un lato gli ha permesso di studiare di poter avere una propria educazione eccetera e quello che noi seguiamo fondamentalmente è la sua crescita o non crescita potremmo definirla come essere umano quindi vediamo anche quello che pensa il suo modo di agire vediamo soprattutto qual è la sua mentalità all'interno di questo libro infatti il nostro personaggio è un po' è una persona svogliata è una persona che non prende mai nulla sul serio è una persona che preferisce addossare agli altri le colpe dei propri fallimenti è estremamente irresponsabile molto ingenuo a volte perché non è neanche abbastanza furbo per potersi poi muovere all'interno di tutto quello che gli accade nella sua storia è uno studente mediocre non eccelle sarà costretto ad accettare un lavoro per lui considerato estremamente mediocre quasi una concessione a tutti della sua presenza insomma e per tutta la sua vita quello che noi seguiamo è questa staticità nel suo personaggio il fatto di non riuscire mai a liberarsi del suo passato della sua crescita e quindi di rimanere sempre il bochan in lingua giapponese proprio lui rimane il signorino che in realtà vuol dire bochan vuol dire signorino però anche visto come una caratteristica negativa però da un lato secondo me la cosa sorprendente di questo protagonista che è davvero difficile da apprezzare però la cosa secondo me interessante di questo protagonista è che anche nonostante la sua posizione dopo essere partito per lavorare come insegnante di matematica in età adulta in questa provincia che lui non riesce a riconoscere non si riesce a inserire eccetera e che non riesce a comprendere perché soprattutto secondo lui manca totalmente di rispetto verso le tradizioni manca totalmente di senso dell'onore mancano totalmente di quelli che per lui sono valori fondamentali ed incrollabili e lui davvero in maniera molto stoica continuerà a cercare di difendere quella che è la sua mentalità e quello che si porterà dietro per tutta la vita è un libro molto breve ma denso di considerazioni che il lettore si trova a dover fare sul protagonista secondo me non è un libro che ti racconta troppo qual è la sua stessa morale la morale è molto intuitiva secondo me perché parla un po' della decadenza della società però la cosa che ho trovato estremamente interessante è che lo fa tramite un protagonista pieno di difetti che sicuramente il lettore non trova apprezzabile anzi è difficile entrare in empatia con il signorino è difficilissimo anzi soprattutto il libro davvero fatichi a capire il suo modo di ragionare fatichi a capire come non possa vedere anche le cose più evidenti però è davvero il punto più forte di tutto il libro io gli ho dato tre stelline e mezzo perché l'ho trovata una lettura quantomeno molto interessante devo dire che non è una lettura che mi ha lasciato particolarmente scombussolata però tutto il metodo narrativo di Soseki è assolutamente interessante perché ha una delicatezza nella composizione di questa storia che secondo me è quello che ti tiene incollato alla lettura cioè non lo fai sicuramente per il protagonista ecco però anche nel descrivere questo mondo questo suo universo dove si è trincerato dietro ai valori familiari tradizionali che tra l'altro l'hanno tradito per primo è molto interessante ed è estremamente piacevole se riuscite a trovarlo insomma siete io ve la consiglio tantissimo come lettura quantomeno perché è un mondo molto distante tra l'altro parla del Giappone a cavallo tra il XIX e il XX secolo quindi un periodo di grande transizione grande accrescimento del Giappone nella rincorsa industriale dove si afferma in pochissimi anni il Giappone ha una crescita incredibile tra la fine dell'Ottocento e ovviamente il dopoguerra cosa che non si è mai vista in nessun altro punto e abbandonando quello che invece era stato un po' il suo sistema tradizionale che invece è particolarmente costellato di senso dell'onore costellato di abitudini costellato di un tipo di mentalità molto più chiusa di un tipo di movimento molto più lento insomma e vediamo come c'è in questa parabola del nostro anti-eroe perché noi non simpatizziamo per lui mai invece uno sguardo comunque critico rispetto a quella che è l'evoluzione della società giapponese per me non è stata una lettura diciamo particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo però l'ho trovato molto interessante ed è per questo che ve lo consiglio tanto perché sicuramente è un punto di vista anche inusuale per la composizione come composizione secondo me è molto originale perché noi fondamentalmente seguiamo un anti-eroe che non ci sarà simpatico mai e che ci fa vedere come quello che succede a lui che all'inizio insomma un po' glielo auguriamo perché non se ne può più deve crescere il lettore pensa continuamente cresci per l'amor del cielo vediamo invece come forse la sua visione purché distante dalla nostra come Genesi però ci porta alle stesse considerazioni o comunque a considerazioni più simili a quelle o forse a pensare che il suo sia un trincerarsi dietro quello per non dover evolvere personalmente insomma le considerazioni da fare sono davvero tante quindi per questo ve lo consiglio allora per oggi direi che questo era l'ultimo libro queste che sono le mie letture estive del mese di luglio spero vi abbiano interessato sono titoli molto diversi tra di loro sono un po' anche distanti da quello che leggo io di solito e questo secondo me è anche interessante per vedere un po' come il mio cervello vada a random anche perché davvero luglio è stato un mese per me difficilissimo psicologicamente eppure ho letto tanto cioè almeno questo per me è tanto non sono una di quelle che ha tempo energie eccetera per leggere centomila libri però tutti i titoli che ho trovato comunque interessanti sia in positivo che in negativo ma i libri tendenzialmente lo sono quasi sempre spero di parlarvi presto anche degli altri titoli quelli di agosto perché ci sono cose davvero molto interessanti e ricordo come sempre che se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale seguiti i miei video attivate la campanella per essere sempre aggiornati e sicuri che vi arrivi la notifica e per tutti i vostri acquisti Amazon se utilizzate il mio link lì sotto date una mano al mio canale e questo ovviamente mi fa molto piacere perché mi aiuta ad andare avanti con tutta questa baracca niente io vi ringrazio come sempre per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao ciao